Beh, almeno c'è 4 ore per fare la missione di Bob, che sentite gratuita. Che è successo? Non so se non è qui, se vuoi fare molto bene la sfida. E mi tocco come non riesco. Ah! Adesso io ho fatta questa missione, mi faccio così. Sì, mi vuoi aiutare. Perché hai detto sì? Ale, perché hai detto sì? Siamo riusciti a salvarci. No lo uccido io. Bene. Siamo riusciti a andare a cercare. Sì. Alla prossima. Sì. 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 ... ... ... ... ... Oh, yeah. No, non mi raccomando. No, non mi raccomando. Bellissima giocata. Bellissima giocata, questo. E io ho fatto la missione. Mamma mia. Io so per finire il Brawl Pass. E io faccio un'altra missione. Io non ho quasi finito il Brawl Pass, guarda. E anche io l'ho quasi finito il Brawl Pass. E no, guarda lì qui su. E guarda lì, vabbè, a me mi manca. E che succede che lo finiamo? Quando i 500 politici vi darò una cassa in urli. Che puoi aprire? Ma lo tengo un po' più ampio. E che succede qua? Che succede? Dove? Ma che non finisca qua? Che succede qui? Cosa? Ma che succede? Ecco, che finisca il tocco qua di me la torta. Non so, ci... Isabella. Basta. Non c'ho capito niente tra gadget e ulti. Ho messo quello del robot. Ma cosa vuol del robot? Quello! Io non ho ucciso. E per piano. Beh, me ne frega la sconfitta. Io devo uccidere altre 20 persone. C'è un progetto in quella moppa fa schifo, Isabella. Ecco. Voglio fare questi tre partiti che mi fai. Perché tocco i soldini. Allora faccio lì. E qua è forte. Questo è forte. La partita non deve finire. Perché ti piace? Allora. Allora, che ti sa? Sì, non so. No, non deve finire perché... Perché devo fare le kill. E qua sono tutti vulnerabili. Oh! Oh! La possiamo passare? Attivare il gadget. Io non ho nessun gadget, però il gadget è scatto il gadget. Di chi? Di chi? Di... Beh, perché... Ma quando mai? Ti carica la super! È fortissimo! E con la super tu uccidi tutti. Sì, pareggio! Sì, 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 pareggio! Ma pareggio, guarda che faccio un sacco di qui. Ma pareggio, guarda che... Sì, ma se vedrai che non perdiamo... No, non perdiamo, abbiamo vinto. Mannaggia! Allora... Un minaccio. Un minaccio. Un minaccio. C'è la metto di letto. Vediamo che succede. Allora, come stai succedendo? Se no, io non voglio dire che faccio il risultato. Cacchio! 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 Siamo morti insieme! Poi c'è il piccolo da più. Allora, non la uso mai, Tara. Cacchio! 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 Ti fa vedere le persone che si spucia abbastanza. Grazie a tutti. E va bene, ma è forte questo. Ma dai! Certo! Certo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Patience is the key I have been blessed by the spirit I have been blessed by the spirit of Di3,5 and we are going to 5 and turn it to 5,40 servono servono cinque per sicurezza tizi penne penne finino penne finino non ci riesce E' chiudere lì, lì, lì Ma che l'altro è un po' lì, lì ma che l'altro non colicendo? no no ma che l'altro un corpo vero ma in casa 5 skip mamma mia la sfida 8 bit per 51 la sfida 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 per questo precedente sono riuscito ad arrivare e non si vengono bene veni bene un po' di l'agrazione un po' di l'agrazione Oh Oh Isabel mi stai facendo allargare La smetti? Isabel Posso farmi uno a Kiryu? Isabel Esabel Isabel Esabel Isabel Isabel I need to go Isabel I need to go Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.